Sono vegana dal 2001, quindi sono quasi otto anni. Lo sono diventata dopo essere stata vegetariana per quattro anni. Sono diventata vegana più o meno naturalmente, nel senso che dopo essere diventata vegetariana ho gradualmente eliminato sempre più cibi animali indiretti, finché mi sono resa conto che non ne stavo mangiando più. Questo alla luce del fatto che dopo essere diventata vegetariana ho scoperto che anche dietro al formaggio, al latte, alle uova c'è sfruttamento degli animali, c'è molta sofferenza, oltre che essere dei prodotti che costituendo un'ulteriore trasformazione rispetto a quella che è la carne animale, sono ancora, per certi versi, soprattutto i latticini, più impattanti, si dice, cioè creano un maggiore impatto ambientale sul nostro ecosistema.